benvenuti ciao a tutti un insegnante della scuola dell'infanzia può trovare degli spunti creativi anche facendo la stessa in questi giorni alla copp ho incontrato i vitamini questa è una banana e svuotandola ho ricavato un seme per animare con i bambini la parabola del seminatore dentro questa apertura cuscio la piantina che poi si può sfilare piano piano in modo analogo qua in fondo ho cuscito le radici musica 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 prepariamo questi tre diversi tipi di faccine musica mi servirò anche dei miei pub relativi ai mebli musica 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 Il pupazzo è relativo al contadino. Il pupazzo è relativo al contadino.